Su 506 operai forestali, 114 sono inabili al lavoro. Stamani i forestali hanno protestato davanti alla presidenza della regione per avere sicurezze sul loro futuro. Con lo stanziamento dalla regione di 3 milioni di euro, il budget per gli stipendi e le spese sale a 10 milioni. Un atto concreto, dice il presidente Rossi, ma sugli inabili vuole vederci chiaro. Vediamo il servizio di Frida Zampella. Il caso più eclatante è quello dell'Amiata. Su 19 operai forestali, 17 sono stati dichiarati dal medico di famiglia non ai donne e al lavoro. E poi in Garfagnana, 11 nabili su 25, a Scarlino, 5 nabili su 12 in servizio. In totale, su 506 incaricati di controllare la regione con più boschi d'Italia, 114 non sono operativi. Stamani però i forestali hanno protestato sotto il palazzo della regione e chiedono garanzie sul loro futuro. Ma il governatore Rossi ci vuol vedere chiaro. Hanno ragione e chiedono garanzie per il loro futuro. Noi, ieri in giunta, abbiamo stanziato 10 milioni che possono ritenersi sufficienti per garantire lo stipendio a questi 500 lavoratori. Però vogliamo chiarezza con un piano di interventi, vogliamo sapere dettagliatamente cosa si fa e dove si intervene nelle aree demaniali della regione. E vogliamo fare chiarezza anche sul fatto che su 500 lavoratori ce ne sono 114 che a vario titolo sono dichiarati inabili. Sicurezza e continuità, questa è la richiesta dei forestali sostenuta dai sindacati ed anche dai sindaci del territorio. Dobbiamo sganciare questo settore dalla precarietà dei finanziamenti. Lo stanziamento di bilancio è un atto concreto, la risposta dell'assessore al bilancio Bugli e all'agricoltura Remaschi. Ma sul caso degli inabili la regione vorrebbe chiarimenti da una commissione medica. Noi non vogliamo naturalmente mettere nessuno all'indice, anche loro hanno diritto a lavorare, ma se paghiamo la forestazione i lavoratori devono svolgere queste attività. E poi siamo disponibili a riassumerci direttamente queste funzioni come regione toscana ed avere a servizio nelle aree demaniali della regione direttamente questi lavoratori.